Senti, ma senza stare a menarla con tutte le tue informazioni super utili. A me conviene montare fotovoltaico? Vogliamo fare un ragionamento a spanne? E facciamolo. È molto semplice, bastano 4 domande. 1. Hai una casa o un'azienda o un qualsiasi altro edificio? 2. In questo edificio hai un impianto elettrico? 3. Consumi più di 1000 kWh all'anno? Ma soprattutto 4. Sei allacciato abusivamente alla linea del tuo vicino così non hai un contatore tuo? Se hai risposto di sì a tutte tranne che all'ultima, allora la risposta è sì. Ti converebbe montare un impianto fotovoltaico per cominciare a risparmiare. Ovviamente non dico proprio a zerare la bolletta perché quella è una magia del marketing. Ve l'ho spiegata nel video sull'accumulo virtuale. Ma sicuramente con il fotovoltaico la tua bolletta si può ridurre di molto. Se invece hai risposto di sì a tutte le domande, allora consiglia al tuo vicino il mio canale. Almeno anche lui, poverino, risparmia qualcosa.